Se non ci sono altri deputati che non hanno ancora espresso il loro voto, dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo della Commissione, su quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 522, votanti 522, astenuti 0, maggioranza 262, hanno votato sì 298, hanno votato no 224, la Camera approva. Si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate.